Era una ragazza giovane e aveva una vita davanti. Giustizia la pretendo, perché non è giusto che vada a finire così. Lo afferma da sempre Gaetano De Chirico. Non ha mai creduto che sua figlia Claudia si sia tolta la vita, meno che mai impiccandosi da questa altezza nel sottopasso ferroviario di Terlizia all'alba del 22 dicembre del 2016. Gli stessi dubbi li ha avuti il GIP del Tribunale di Trani Maria Grazia Caserta che ha invitato il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari. Nelle cui mani era passato il fascicolo, dopo la seconda richiesta di archiviazione del PM e l'opposizione dei familiari della ragazza, a svolgere ulteriori indagini. Bisognerà per esempio analizzare i dati estrapolati da una videocamera che riprende l'uscio dalla casa dove viveva la giovane e procedere a una nuova consulenza tecnica che valuti se con un cavo USB del telefonino della lunghezza di 90 cm fosse possibile arrivare ad un'impiccagione nelle condizioni psicofisiche alterate in cui Claudia si trovava. Nel provvedimento si legge, tra le altre, come sia necessario comparare la traccia genetica rinvenuta sul cavetto con i dati del fidanzato e del suo accompagnatore attraverso il prelievo di campioni biologici. Unico indagato rimane il 31enne convivente della giovane che si è sempre difeso riferendo di un rapporto burrascoso a causa della gelosia di lei spiegando però come la ragazza avesse altre volte manifestato intenzioni di togliersi la vita. Non voglio incolpare nessuno anche perché c'è la giustizia se c'è la giustizia, giustizia sia.